Ben trovati da Nico Schiodetto, TG di 3B che oggi apre con il caldo anomalo sulle Alpi Occidentali. Nella giornata di ieri all'aeroporto di Aosta sono stati toccati 22 gradi, giornata molto mite, primaverile ma anche oggi causa favonio. Le temperature sulla pedemontana piemontese stanno toccando i 20 gradi ma anche in alcune zone dell'Appennino Emiliano a 700 metri di quota. Stiamo parlando ovviamente di zone montuose. Andiamo a vedere di fatti con questa grafica come anche nei prossimi giorni la presenza dell'alta pressione nordafricana sulla Spagna e la Francia manterrà le temperature ben oltre la media a 850 etto Pascal, siamo attorno ai 1500 metri di quota ma possiamo notare anche sull'Italia, soprattutto l'Italia centrosettentrionale, valori anche di 7-9 gradi oltre la media stagionale nei prossimi giorni. Andiamo a vedere di fatti questa palla anticiclonica, questa cupola di aria calda che dal Marocco interessa tutto il comparto occidentale e le perturbazioni, il jet stream che scorre più a nord sulle isole britanniche e poi scivola verso i Balcani. Un po' di nuvolosità nella giornata di venerdì sulle Alpi settentrionali con qualche precipitazione sulla parte della Valle d'Aosta e dell'Alto Adige. Altrove tutto tranquillo, anche nel weekend le nebbie in pianura padana, nonché un po' di nubi basse marittime dal Martirreno verso i settori più occidentali dell'Italia. Zero comunque pioggi anche la prossima settimana in vista dei giorni della merla, possiamo vedere un ulteriore rinforzo dell'alta pressione nordafricana con temperature eccezionalmente miti in quota su Alpi e Appennino. Tutti i dettagli precisi, gli approfondimenti sull'app di Trabi Meteo.